non è cane non è lupo sa soltanto quello che non è probabilmente tutti voi avete sentito almeno una volta questa battuta è una delle citazioni più famose e più iconiche e non solo in ambito animato tuttavia il film da cui deriva balto non gode della stessa fama ma come sempre prima di scoprire il perché iniziamo dal principio nel 1989 steven spilberg decide di aprire un suo studio di animazione sussidiario dell'amblin entertainment la casa di produzione cinematografica che aveva fondato nell'81 dopo l'enorme successo di indiana jones e i predatori dell'arca perduta la decisione per quanto azzardata col senno di poi è facilmente comprensibile negli anni 80 la disney è messa male molto male e se volete saperne di più vi rimando a questo mio video molti animatori in gamba abbandonano la compagnia di topolino e uno in particolare don bluth inizia a lavorare proprio con spilberg i due insieme realizzano prima fives barca in america e poi alla ricerca della valle incantata una copia di film che sconfigge la disney sia in riferimento alla critica sia in riferimento agli incassi e in aggiunta a questi ci si mette anche chi è incastrato roger rabbit un progetto gigantesco che vede coinvolte oltre all'amblin entertainment anche la disney e la warner bros roger rabbit a fronte di un lavoro mostruoso da parte di robert zemeckis dello stesso spilberg ma soprattutto di richard williams si rivela un ottimo successo così per non perdere il treno dell'animazione che a quanto pare ora sta bruciando tappe su tappe nell'89 spilberg prende il coraggio a due mani e apre l'amblimation il suo studio di cartoni animati nel dettaglio la apre a londra assieme a kate mellory una dei suoi manager storici e a simon wells un animatore con alle spalle una bella gavetta sotto la guida del suo mentore il poc'anzi citato richard williams purtroppo però nonostante l'idea di base sia buona spilberg arriva già tardi perché pochi mesi dopo sempre in quell'anno esce la sirenetta il film con cui la disney riconquista il suo trono perduto e distanzia di nuovo i suoi competitor infatti lo stesso don bluth prima di riproporre un altro grande film dovrà aspettare fino al 1997 anno in cui realizza il bellissimo anastasia comunque ormai lo studio è stato aperto quindi inizia a lavorare disney o non disney e nei suoi soli otto anni di vita ci regala ben cinque produzioni una serie episodica basata sulla trilogia di ritorno al futuro una serie su fivel in collaborazione con nelvana uno studio canadese e tre film per il grande cinema la prima pellicola che esce nelle sale è fivel conquista il west del 91 sequel diretto di fives barca in america nonché debutto alla regia per lo stesso simon wells da un punto di vista tecnico il film si dimostra valido anche senza don bluth che se n'era andato per la sua strada perché spilberg chiama molti artisti che avevano lavorato anche alla disney ma l'incasso circa 40 milioni di dollari è modesto e questo perché in quell'anno esce anche la bella e la bestia il capolavoro senza tempo di jeffrey casenberg che monopolizza il box office arrivando addirittura a concorrere per la statuetta d'oro poi è il turno di we are back quattro dinosauri new york del 93 film che hai messi traduce in un fiasco totale la critica lo boccia completamente e al botteghino racimola malapena 9 milioni di dollari cosa che mette a dura prova il giovane studio nato da poco infine l'amblimation si gioca il tutto per tutto con il suo ultimo lavoro quello che interessa a noi balto che debutta nelle sale americane il 22 dicembre del 1995 la produzione lo sviluppo di balto in realtà iniziano già a cavallo tra l'89 e il 90 quando fivel conquista il west era quasi pronto e quattro dinosauri new york procedeva spedito l'idea di base non è originale infatti in caso non lo sapeste la storia dei cani balto e togo è una storia vera avvenuta nel 1925 a nom una piccola cittadina sperduta nel nord dell'alaska per farla breve in quell'anno a nom scoppiò un'epidemia di difterite una malattia infettiva molto grave e potenzialmente letale soprattutto per i bambini e in pochissimo tempo tutte le scorte di antitossina finirono così leonard seppala un allevatore di cani norvegese si offrì volontario per andare in slitta fino all'insediamento umano più vicino per portare altre fiale e la sua corsa di circa 600 miglia passata alla storia come la corsa del siero fu un'impresa monumentale ma grazie ai suoi cani tra cui balto e togo l'uomo riuscì a tornare vittorioso salvando così tutto il paese chiaramente simon wells regista scritturato da spilberg e da eichner i produttori si trova costretto a rimaneggiare un po gli eventi storici dal momento che l'opera doveva essere un cartone animato romanzato per famiglie e non una puntata di un documentario della bbc ed ha quindi qualche dritta agli sceneggiatori in merito a cosa togliere e a cosa aggiungere così cliff ruby e roger shulman presentano una prima stesura innanzitutto il personaggio di togo viene eliminato e sostituito con steel che funge anche da main villain mentre balto da semplice caneslitta viene trasformato in un meticcio randagio mezzo aschi e mezzo lupo motivo per il quale nessuno vuole averci a che fare in secondo luogo balto proprio a causa del suo sangue misto non viene scelto subito come membro della muta guidata invece dal perfido steel ma raggiunge la spedizione in un secondo momento per salvare tutti quanti persi nella gelida tormenta la stesura stranamente convince l'intero staff e così iniziano i lavori effettivi del film per riprodurre fedelmente le movenze dei cani wells decide di contattare un allevatore di aschi della zona il quale ne porta una decina nello studio permettendo così agli animatori e ai disegnatori di osservarli fin nei minimi dettagli tuttavia la cosa più interessante riguarda proprio il lato tecnico della pellicola spielberg fin da quando ha aperto l'amblimation ha puntato molto sull'animazione tradizionale e questo perché fino a qualche anno prima aveva lavorato con don bluth un fissato dell'animazione classica vecchio stile che lo aveva contagiato con la sua passione e con le sue idee abbastanza rigide quindi proprio in virtù di questa concezione alla don bluth la tecnica principale anche per balto doveva essere l'animazione tradizionale però wells che è giovane e che crede molto nella sperimentazione digitale di cui la disney è stata pioniera fin dai tempi della pt di taro nella pentola magica utilizza tunes un software ottimizzato per perfezionare mediante computer le animazioni in due dimensioni lo stesso software che qualche anno dopo userà anche a yaomi yazaki per i suoi film ghibli inoltre wells sfrutta tunes pure per implementare tutta una serie di effetti particellari in computer grafica cose come riflessi sul pelo dell'acqua e fiocchi di neve effetti che risultano incredibilmente avvenieristici e moderni soprattutto se consideriamo che l'amblimation è molto più piccola e molto più limitata rispetto a giganti come la disney o come la warner bros in ogni caso i lavori continuano senza troppi intoppi vengono scelti i doppiatori tra cui kevin beckham per balto bob oskins per zio boris bridget fonda per jenna e phil collins per entrambi i fratelli mac e luck e finalmente ecco che la pellicola viene rilasciata con però esiti devastanti a fronte di un budget di 31 milioni di dollari il film incassa appena 11 milioni di dollari cifra che fa piangere dalla disperazione tutti i produttori i quali dovevano ancora riprendersi dal fallimento clamoroso di quattro dinosauri new york in aggiunta a questo anche a livello di critica balto non riesce a imporsi i giornalisti hanno occhi solo per il suo rivale targato pixar toy story che come film è molto più innovativo e molto più sorprendente di conseguenza a fianco a questo balto fa una magra e triste figura stephen holden sul new york times scrive che balto è un'avventura dalle buone intenzioni dai buoni propositi e dalle buone animazioni ma il sentimentalismo sdolcinato e la caratterizzazione blanda dei suoi personaggi lo frenano e gli impediscono di volare onestamente non ho mai capito tutta questa freddezza da parte della critica chiaro toy story è stato un avvenimento epocale il primo film d'animazione realizzato interamente al computer un avversario molto ostico se non impossibile da battere ma da qui a snobbare del tutto il povero balto mi è parso eccessivo pensate che l'articolo di holden uno dei pochi fu relegato in un piccolo angolino di una pagina sperduta del quotidiano a mio modesto parere balto è un'ottima storia con più livelli di lettura in superficie abbiamo un racconto avventuroso molto classico che vede un eroe outsider che si lancia in un'impresa epica un'impresa che porta a termine grazie al coraggio alla determinazione e alla sua forza d'animo ma se scaviamo un po più in profondità scopriamo anche una bellissima metafora sull'accettazione della propria diversità balto non trionfa solo perché è un cane coraggioso trionfa anche perché accetta finalmente di essere per metà lupo durante i primi tre quarti del film infatti balto soffre palesemente di una condizione di diversità gli altri cani a parte jenna lo disprezzano addirittura still lo odia perché lui non è come loro ma pure presso i lupi lui non è ben voluto lo evitano e questo fa sprofondare balto in una buia e opprimente sofferenza interiore che lo blocca e che gli impedisce di agire e sotto una certa ottica questa sua sofferenza interiore diventa quasi un secondo villain che si affianca still in quella che è la narrazione principale prima di confrontarsi con still balto deve confrontarsi con se stesso deve smetterla di vergognarsi del suo sangue di lupo accettandolo come parte di sé parte della sua natura non a caso l'aiuto decisivo per condurre gli altri cani e l'antitossina in salvo in mezzo alla bufera di neve gli arriva proprio dal grande lupo bianco un totem sacro che può essere inteso come un animale vero ma anche come uno spirito guida la manifestazione della consapevolezza acquisita da balto cioè quella di non essere né un cane né un lupo ma il meglio di entrambi anche i personaggi nel complesso non sono poi così blandi balto lo abbiamo visto vive una complicata situazione intima di crisi crisi che alimenta il suo conflitto interiore e di riflesso anche quello della narrazione poi c'è genna l'unica che si dimostra gentile con balto l'unica che nel suo piccolo cerca di non fargli pesare il sangue di lupo genna non è semplicemente l'interesse romantico dell'eroe genna è la scintilla che appicca il fuoco del cambiamento in balto perché è lei che indirettamente lo sprona a mettersi in gioco per aiutare i bambini malati di gnome tra cui anche la padroncina di genna senza di lei probabilmente balto non avrebbe mai iniziato la lunga e dura battaglia per accettare se stesso still invece il cattivo è un personaggio molto squadrato ma anche molto credibile per prima cosa fin da subito ci viene fatto capire che tipo di cane e cioè forte egocentrico è disposto a fare di tutto pur di perseguire i suoi fini anche imbrogliare ma poi pian piano ci accorgiamo che in realtà non è così forte e nemmeno così sicuro di sé è frustrato ha paura di balto perché in lui vede un rivale e non ha la più pallida idea di come si debba comportare un vero leader e questi suoi aspetti lo rendono insopportabile sia agli occhi di noi spettatori sia agli occhi degli altri cani che però hanno troppa paura di lui per ammetterlo in altre parole still è l'incarnazione perfetta dell'effetto danning kruger non solo lui si sopravvaluta ampiamente ma è convinto davvero della sua competenza anche quando oggettivamente non ne ha e per un protagonista come balto insicuro e vittima del concetto di diversità che alimenta il pregiudizio still è l'avversario perfetto perché è quell'avversario che si approfitta delle debolezze altrui e le sfrutta per apparire come un ostacolo insormontabile gigantesco quando alla fine della fiera è solo un pallone gonfiato meschino e bugiardo forse l'unico personaggio non ben inquadrabile e un po carente è zio boris zio boris assieme a makellac incarna un po il lato comico del film ma se spesso e volentieri da vita si pareti buffi che puntano alla comicità slapstick che piace ai più piccoli altre volte fa delle osservazioni molto più ricercate che fanno riferimento alle situazioni politiche russe o ai romanzi letterari di dostoevsky osservazioni insolite all'interno di una produzione di questo genere e fondere insieme due attitudini così diverse e così contrastanti è pericoloso perché si rischia di snaturare un personaggio e infatti zio boris per quella che è la mia opinione ovviamente è appunto il più debole tra i personaggi principali indubbiamente balto non è certo un capolavoro immortale dell'animazione ma per essere una produzione non disney anzi addirittura rivale una produzione tutto sommato abbastanza limitata è un bel film un film d'avventure di azione ma con anche un ottimo messaggio positivo nascosto tra le sue righe un messaggio che fa leva sul combattere contro i propri demoni interiori per migliorare come persone trasformando quelli che a prima vista sembravano difetti in vere e proprie qualità ma arrivati fin qui manca ancora un ultimo tassello del puzzle di cui discutere come abbiamo detto balto è l'ultima produzione dell'amblimation infatti a causa delle scarse entrate economiche nel 1997 steven spilberg si vede costretto a chiudere il piccolo studio britannico però la storia del coraggioso eroe a quattro zampe nei cane nei lupo colpisce molto sia il nostro spilberg che l'amico jeffrey casenberg e i due decidono di reintegrare simon wells e tutti gli altri artisti nelle schiere di un nuovo studio di animazione la dreamworks uno studio pronto a sfornare prima z la formica e poi il principe d'egitto secondo me uno dei migliori film dell'animazione tutta ecco perché balto pur non sapendolo è stato un po il precursore di una nuova era perché in un certo senso potremmo dire che senza di lui non ci sarebbe mai stata la dreamworks animation che tolta la piccola parentesi di don bluth negli anni 80 oggi come oggi la più grossa rivale della disney ed è anche un pezzo imprescindibile della storia dell'animazione occidentale bene signori il video termina qui io spero che vi sia piaciuto lasciatemi nei commenti le vostre impressioni o i vostri pareri e scrivetemi anche magari degli altri film animati degli anni 80 o 90 di cui vorreste che parlassi così mi faccio qualche idea grazie di cuore per il vostro tempo e per la vostra attenzione statemi bene mi raccomando e noi ci vediamo come ogni volta al prossimo video Grazie a tutti